Dalle opposizioni accuse infamanti e false contro Di Mè, il duro attacco fatto a Montecitorio dal Premier Conte nel suo intervento ancora in corso in questi minuti, diretto riferimento ai leader di Lega e Fratelli d'Italia. È noto che Salvini non studia i dossier, ma mi stupisco di Meloni. In aula è Bagarre. La maggioranza si divide anche sul decreto fiscale a far discutere un emendamento per rinviare l'equiperazione delle norme sulle fondazioni a quelle sui partiti, proposto dal PD e votato anche dal Movimento 5 Stelle, dall'EU. Duro attacco di Italia Viva, fanno i moralisti di giorno sui social e poi la notte salvano le loro fondazioni, dice Matteo Renzi. Ma anche Di Maio tuona una porcheria, il decreto deve tornare in commissione. Rivelati dopo l'insediamento della Commissione Europea i dettagli dell'accordo sui migranti raggiunto a Malta lo scorso settembre, l'intesa sulla redistribuzione funziona, dice la Ministra dell'Interno Lamorgese, illustrando le cifre. Dei 353 migranti approdati di recente, solo 143 sono rimasti in Italia, mentre gli altri 210 sono stati assegnati a Germania, Francia, Portogallo, Spagna e Irlanda. Ora si punta ad allargare il numero dei paesi disposti ad accogliere. Al Via Madrid della COP25, la conferenza annuale organizzata dalle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, attesi delegati da circa 200 paesi chiamate ad annunciare le misure per contenere l'aumento delle temperature entro i 2 gradi centigradi. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, fissa l'obiettivo dell'Europa, dobbiamo essere ambiziosi e diventare nel 2050 il primo continente climaticamente neutrale. Attesa per il CDA di Cire, il gruppo controllato da De Benedetti che dovrà esaminare nel pomeriggio l'offerta di Exor finanziaria della famiglia Agnelli per l'acquisizione dell'editoriale Gedi, cui fanno capo la Repubblica, la Stampa, il secolo XIX, l'Espresso, diversi quotidiani locali e due network radiofonici. No a ipotesi nostalgiche, niente spezzatino, dice Elkan che promette un piano per garantire stabilità e rispetto dell'indipendenza redazionale. Sospensione immediata degli scali delle navi da guerra americane a Hong Kong e adozione di sanzioni contro diverse organizzazioni non governative americane. Sono le misure annunciate da Pechino contro gli Stati Uniti dopo l'approvazione di provvedimenti legislativi a Washington a sostegno dei diritti dei manifestanti pro-democrazia a Hong Kong. Sorpasso Inter in testa alla classifica e Nerazzurri battono la spalla e approfittano del pareggio della Juventus con il Sassuolo, aspettando questa sera Cagliari-Sampdoria, successi di Lazio e Roma in zona Champions. Napoli in crisi, in discussione anche il futuro di Ancelotti e a proposito di futuro, da Dubai il sei volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton conferma nel 2021 potrei guidare una Ferrari. Buongiorno, bentrovati a tutti voi dalle telegiornale della Sette. Dunque, lo avete sentito nei nostri titoli, il Presidente Conte proprio in questi minuti sta riferendo alla Camera sulla riforma del Fondo Salva Stati, un tema che ha acceso molto il dibattito politico in queste settimane, quindi andiamo subito in diretta e sentiamo le parole di Conte per le conclusioni. Un accordo comune tra le due istituzioni ne ha sancito la collaborazione nel disegno della condizionalità connesse ai programmi e ne ha prefigurato la complementarietà dei ruoli dell'analisi della sostenibilità del debito. Inoltre, è stato previsto, leggo sempre dalla relazione allegata al verbale del Consiglio dei Ministri, è stato previsto un possibile ruolo di facilitatore da parte del MES del dialogo tra creditori e Stati membri nel caso di operazioni di risultazione del debito, con un coinvolgimento da parte del MES di tipo informale, non vincolante, su basso confidenziale e soprattutto attivabile solo su richiesta dello Stato membro. E relativamente alle revisioni del cosiddetto CACS, presente nella documentazione legale sottostante i titoli di Stato emessi dai Paesi dell'area Euro, infine, l'accordo raggiunto veniva chiarito, prevede che siano introdotte CACS di tipo single limb entro il 2022, includendo questo impegno nel trattato MES. Ora è importante sottolineare... Torniamo in studio, queste dunque le parole del Presidente Conte, ma nella informativa è importante sottolineare questo, che mi sembra quasi superfluo confermare a quest'Aula, ha detto Conte, un fatto di tutta evidenza, ossia che né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto. Nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei Paesi europei. Sentiamo allora il servizio di Giancarlo Feliziani su come appunto si è arrivata questa comunicazione dopo un lungo vertice a Palazzo Creigi, quello di ieri sera. Un attacco frontale che riapre l'antico scontro con Matteo Salvini, ma anche con Giorgia Meloni. Così in questi minuti il Premier Conte alla Camera per l'informativa sul MES. Questo mio passaggio assume un rilievo particolare. Da alcune settimane i massimi esponenti di alcune forze di opposizione hanno condotto una insistita capillare campagna mediatica accusandomi di aver adottato nel corso di questo negoziato con le istituzioni europee condotte talmente improprie e illegittime da essermi reso responsabile di alto tradimento. E mi sono sorpreso, se posso dirlo, non della condotta del Senatore Salvini, la cui disinvoltura a restituire la verità, la cui resistenza a studiare i dossier, mi sono ben note. Quanto del comportamento del deputato Borghi, mi sono sorpreso del suo comportamento. Perché non ci si è fatto il scupolo di diffondere notizie allarmistiche, palesemente false, che hanno destato preoccupazione dei cittadini e in particolare nei risparmiatori. E' stato detto che sarebbe prevista la confisca dei correnti dei risparmiatori. Deputata Meloni, deputata Meloni, deputata Meloni, dopo avrà il suo intervento. Dopo avrà il suo intervento. Così il Premier Conte poco fa alla Camera. Nella notte il vertice più importante è disertato però dai renziani di Italia Viva. Quattro ore di discussione a tratti molto accesa, in particolare tra il ministro dell'economia Gualtieri e quello degli esteri Di Maio, per trovare una mediazione sbilenca. Nessun rinvio all'Unione Europea sul MES, dirà alla fine Dario Franceschini. Qualcuno lo chiama rinvio, qualcun altro è riflessione, altri ancora negoziato, replica Di Maio, che dice provano a zittirci, ma non ci riusciranno. Ma da stasera nessuna luce verde potrà essere data sul negoziato se il Parlamento non si esprime prima. Il Parlamento si esprime tra dieci giorni. Il Parlamento sovrano, certo, ma la trattativa notturna è stata giocata tutta sul filo delle parole. Franceschini sottolinea il mandato al ministro Gualtieri a trattare in sede europea e poi sottolinea ancora che di rinvio non se ne parla. Non è quello che dice Di Maio, però mi scusi. Non so che cosa ha detto, ma è uscito un documento anche ufficiale dalla riunione, non si parla di rinvio, questo documento, che non c'è nessuna richiesta di rinvio, ma c'è un mandato al ministro Gualtieri e poi alla fine è evidente che decide il Parlamento. Toccherà quindi al ministro Gualtieri dopo domani a Bruxelles negoziare, secondo quella che è stata battezzata come una logica di pacchetto, cioè il sì italiano sarà condizionato all'intero pacchetto di riforme, Unione bancaria, garanzia europea sui depositi bancari, nelle quali, dicono i 5 Stelle, c'è tanto da cambiare. Se ne riparlerà l'11 di dicembre, quando la maggioranza sarà chiamata a varare una risoluzione comune con le posizioni tra PD e 5 Stelle che rimangono distanti. Il punto di caduta del vertice notturno lega le mani a tutti e non scioglie i nodi politici. Primo fra tutti il rapporto fra Di Maio e i suoi parlamentari. Non li tengo, avrebbe ammesso nel corso del vertice. Adesso la parola al Premier Conte. Esaurito l'intervento alla Camera, breve pausa, poi alle 15.30 si replica al Senato, dove si riaccenderà l'antico scontro con Matteo Salvini, il cui intervento è previsto tra oggi e domani. Premier Conte sta ancora parlando alla Camera. Questo dunque per quanto riguarda la riforma del fondo Salva Stati, ma c'è un'altra questione che agita la maggioranza. È legata praticamente al decreto fiscale che è passato in Commissione Finanze, ma con i renziani all'attacco che hanno votato no su fondazioni e sull'aumento delle pene agli evasori. A dare ragione a Renzi interviene anche Di Maio, che chiede che il decreto ritorni in Commissione. Dopo una lunga maratona, la Commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto legge sul fisco collegato alla manovra che introduce una serie di modifiche al test originale. Il mandato al relatore è arrivato dopo 14 ore di discussioni e accesi confronti che hanno riguardato soprattutto alcune delle novità inserite nel decreto, come la norma che prevede l'inasprimento delle sanzioni penali non solo per i grandi evasori, ma anche per chi non dichiara i redditi o li dichiara in modo infedele. Norma sulla quale la maggioranza si è spaccata, Italia Viva ha votato contro l'aumento delle pene. Il partito di Renzi si è opposto anche al rinvio al 2021 delle norme sulle fondazioni relativa alla stretta sui soldi e trasparenza. La decisione di rinviare l'applicazione sulla spazio corrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la Commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di Movimento 5 Stelle, PD e L'EU e il voto contrario di Italia Viva, scrive il deputato Luigi Marattina in un tweet rilanciato da Renzi che rincara la dose. I di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in Commissione salvano le loro fondazioni. Ma contro il rinvio si schiera anche il capo politico dei 5 Stelle, una porcheria che va tolta, tuona Di Maio, che chiede l'immediato ritorno del testo in Commissione. La protesta ha coinvolto anche i partiti d'opposizione. I deputati di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno infatti abbandonato i lavori poco prima della votazione dell'emendamento del governo sul carcere agli evasori. Il dissenso ha riguardato anche le norme sugli appalti, come ha spiegato il leghista Massimo Bitonci. Soddisfatto invece il Movimento 5 Stelle, la Presidente della Commissione, Carla Ruocco, parla di miracolo. Gli emendamenti approvati miglioreranno la vita dei cittadini italiani, sottolinea l'esponente 5 Stelle, mentre il PD plaude per essere riuscito a far approvare l'emendamento che aumenta il tetto di spesa per il personale sanitario di 200 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Il testo, approvato in Commissione, approderà tra stasera e domani nell'Aula di Montecitorio per la discussione generale. Sicuro il ricorso al voto di fiducia, che potrebbe arrivare già mercoledì. Questo dunque per quanto riguarda la dialettica politica, ma andiamo a vedere in dettaglio quali misure sono contenute nel decreto fiscale. Nell'analisi delle modifiche più importanti apportate al decreto fiscale in seguito alla maratona notturna in Commissione Finanze della Camera, non si può non cominciare dalle disposizioni che tuttora, stante l'opposizione di Italia Viva, minano il percorso del provvedimento. Parliamo ovviamente del carcere per gli evasori, una norma che viene rivista in termini meno repressivi rispetto alla formulazione originaria, fermo restando l'aumento della pena massima a otto anni per la dichiarazione fraudolenta. Infatti viene attenuato l'incremento delle pene detentive per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione non caratterizzati da condotta fraudolenta. Per quanto riguarda il mancato versamento di ritenute e IVA, invece restano immutate le attuali soglie di punibilità, rispettivamente 150 e 200 mila euro, mentre viene limitata ai casi più gravi la confisca per sproporzione, ovvero quella che riguarda beni che un condannato non potrebbe permettersi in base ai redditi dichiarati. Resta invece l'estensione del decreto legislativo 231 sulla responsabilità degli amministratori ai reati tributari, quello cui si oppone fermamente Confindustria, tanto da parlare di approccio iperrepressivo. A proposito di lotta all'evasione, poi l'obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, senza ricorso alla compensazione, riguarderà solo le commesse superiori ai 200 mila euro. Vengono cancellate le sanzioni per i commercianti che non si dotano di POS, a questo proposito il credito di imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti con carta sarà esteso anche alle transazioni con smartphone, mentre slitta dal 1 gennaio al 1 luglio l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini. Termini maggiormente dilatati anche per la presentazione del 7 e 30, dal 23 luglio si passerà al 30 settembre e a usufruirne potrà essere anche chi percepisce redditi assimilati a quello da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo occasionale. Entreranno in vigore solo il 6 marzo 2020 le multe per chi non installerà i seggiolini antiabbandono in auto. Confermati lo stanziamento di 180 milioni di euro per il pagamento degli straordinari di poliziotti e vigili del fuoco effettuati prima del 2019, l'abbassamento dal 22 al 5% dell'IVA sugli assorbenti biodegradabili e l'aumento da 5 a 10 euro dell'importo massimo dell'imposta di soggiorno per i comuni che ospitano un numero annuo di visitatori almeno 20 volte superiore a quello dei residenti. Altro tema in primo piano riguarda la ricollocazione dei migranti. Quell'accordo, quell'intesa raggiunta a Malta nelle settembre scorso tra Italia, Francia, Germania e Malta è diventato operativo e sembra che già sia stato applicato tre volte. Solo due migranti su dieci rimarranno in Italia, più i non ricollocabili, donne incinte e minori. La loro destinazione verrà sempre decisa prima dell'approdo sulle nostre coste. Secondo il Viminale sta funzionando l'accordo raggiunto a settembre a Malta sui migranti in arrivo. Si attendeva all'insediamento della Commissione europea per rivelare i dettagli dell'intesa ed evitare così contestazioni politiche. Ora vengono rivelati i termini della redistribuzione dei richiedenti asilo. La macchina dunque sembra procedere senza intoppi. Verranno ricollocati anche i migranti economici. Ecco le cifre degli ultimi sbarchi avvenuti in Italia tra il 24 e il 26 novembre. 213 persone sbarcate dalla Ocean Viking a Messina, 62 salvate dalla Open Arms e approdate a Taranto e altre 78 arrivate nelle ore successive sempre nel Porto Pugliese. 353 migranti in tutto. 210 sono stati assegnati a 5 paesi europei, 69 alla Germania, 90 alla Francia, 20 al Portogallo, 25 alla Spagna e 6 all'Irlanda. Entro quattro settimane i rifugiati identificati in Italia raggiungeranno i paesi di destinazione. Lì verranno esaminate le loro richieste di asilo e lo stesso Stato si occuperà di rimpatriare chi non ha diritto all'accoglienza. Un superamento significativo del regolamento di Dublino che imponeva ai paesi di primo approdo di accogliere i migranti. A favorire l'accordo un netto calo degli arrivi nel 2019. Secondo il Viminale, da gennaio ad oggi sono sbarcati sulle nostre coste meno di 11.000 persone rispetto agli oltre 23.000 del 2018. L'accordo riguarda però solo i migranti soccorsi in mare esclusi quelli che approdano con piccole imbarcazioni direttamente sulle coste. I cosiddetti sbarchi fantasma. L'intenzione di Bruxelles, fortemente incoraggiata dall'Italia, è quella di estendere il numero dei paesi che partecipano al ricollocamento. Si pensa a Cipro, Lussemburgo e Grecia. Il coinvolgimento degli altri partner europei sarà più difficile visto che si sono subito mostrati poco favorevoli gli stati del nord Europa e decisamente contrari quelli del blocco di Visengrad. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Altra sfida importante è quella sul clima. A Madrid si è aperto il vertice delle Nazioni Unite. Fino al 13 di dicembre saranno riuniti i delegati di 200 paesi che dovranno trovare le misure da prendere per raggiungere l'obiettivo che era stato concordato con l'accordo di Parigi proprio per limitare il riscaldamento globale. Scegliere tra speranza e resa. Queste le parole del segretario generale dell'ONU. Per gli scienziati dell'Agenzia Ambientale ONU la meta imprescindibile da qui al 2100 è arrivare a contenere l'aumento della temperatura globale di un grado e mezzo in più rispetto all'era preindustriale. Ma come farlo? È la grande sfida che spetta ai governi degli stati e quel grado e mezzo da non superare sorta di punto di non ritorno è in realtà un obiettivo complicatissimo. Vorrebbe dire fissare una volta per tutte regole certe sui mercati del carbonio e trovare un accordo per aiutare i paesi in crescita e inquinare di meno ma senza rinunciare allo sviluppo. Ancora una volta la terza. 196 nazioni ne discuteranno a Madrid nella 25esima conferenza ONU sui cambiamenti climatici. La COP25 doveva tenersi in realtà in Cile ma con le manifestazioni di piazza ormai quotidiane in corso nel paese il summit è stato trasferito in Spagna. Ad aprire i lavori il segretario delle Nazioni Unite l'umanità deve scegliere tra la speranza e la resa. Dobbiamo mettere fine alla nostra guerra contro la natura detto Antonio Guterres e quanto ho fatto finora sui gas serra è insufficiente. Ma ci vuole un compromesso con le indicazioni dei climatologi che chiedono oggi di quintuplicare addirittura gli sforzi decisi nella conferenza di Parigi del 2015 e di sicuro l'ONU ribadirà almeno le quattro richieste principali avanzate nel vertice di settembre sul clima a New York nessuna nuova centrale a carbone dal 2020 via i sussidi per i combustibili fossili e emissioni zero di carbonio entro il 2050. Da presidente della Commissione europea neoeletta debutterà a Madrid Ursula von der Leyen ci vuole un Green Deal ha detto un patto ambientale per guidare la strategia della crescita europea che punta a diventare climaticamente neutrale prima del 2050 ma le contraddizioni in termini concreti si misurano sui costi sociali nei giorni scorsi in Germania prima Audi poi Daimler-Benz hanno annunciato il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro per liberare risorse da reinvestire in motori puliti e nella mobilità elettrica la casa madre della Mercedes vuole abbassare i costi del personale di un miliardo e mezzo di euro in tre anni e cioè 10.000 dipendenti in meno Audi taglierà invece 9.500 posti in cinque anni in cambio di 2.000 nuove assunzioni nei cosiddetti settori del futuro Riunione oggi a Milano del Consiglio di Amministrazione di Cire la finanziaria della famiglia De Benedetti che ha avviato una trattativa per cedere il gruppo editoriale alla finanziaria della famiglia Agnelli nel frattempo in borsa è stato sospeso il titolo È una giornata di attesa per il mondo editoriale italiano che nelle prossime ore saprà se il gruppo Gedi che edita ai quotidiani La Repubblica la stampa, il settimanale L'Espresso una miriade di testate locali e due grandi emittenti radio passerà di mano finendo definitivamente nella galassia della famiglia Agnelli Tranne la stampa per lei è un ritorno a casa il resto uscirebbe così dal controllo di un'altra storica famiglia editoriale italiana quella dei De Benedetti Questa mattina il Consiglio di Amministrazione di Cire la cassaforte attraverso cui detengono il 43% del capitale si è riunito per stabilire il via libera Il verdetto sarà comunicato nel pomeriggio ai mercati nel frattempo Borsa Italiana ha sospeso il titolo Gedi dalle contrattazioni mentre gli acquisti piovono su Cire e anche il titolo di Exor viagge in rialzo Insomma, l'ipotesi della vendita di uno dei principali gruppi italiani del settore piace al mercato che sembra darla per cosa fatta Exor, il cui presidente e amministratore delegato è John Elkan nel settore è già proprietaria dell'Economist ma è soprattutto azionista di Fiat Chrysler protagonista di un annunciato matrimonio con Peugeot Citroen Che i fratelli De Benedetti cercassero un acquirente per il gioiello di famiglia non è un mistero anche se il padre Carlo che anni fa ha lasciato loro la gestione di Cire vaticinava che mai lo avrebbero trovato tanto da offrirsi proprio lui l'ingegnere da sempre favorevole al mantenimento della quota di controllo della matissima società che controlla Repubblica di acquistare il 29,2% della casa editrice una proposta mossa da tanta amarezza per la gestione dei figli non hanno la competenza ma prima di tutto non hanno la passione spiegava poco più di un mese fa in un'intervista uscita naturalmente non gradita Rodolfo presidente di Cire si definiva amareggiato e sconcertato dall'iniziativa paterna sottolineando che non era stata concordata anche Marco evidenziava la nota dolorosa e ingiusta nelle parole dell'ingegnere che invece rilanciava proponendo la creazione di una fondazione cui far partecipare anche rappresentanti del mondo della cultura ora il compratore sembra essere stato trovato con l'acquisizione e il gruppo della famiglia Agnelli avrebbe la maggioranza assoluta della società editoriale di cui già detiene con Exor il 5,9% e dovrebbe garantire l'unità fugando i timori di uno spezzatino con l'ipotesi circolata negli ultimi mesi proprio della separazione di Repubblica adesso a Malta sempre più nelle caos oggi la presa ad atto del premier Muscat che ha promesso di dimettersi il prossimo 12 gennaio la vicenda lo sapete è quella dell'omicidio della giornalista Caruana Galizia dalle inchieste della magistratura maltese risultano coinvolti membri del governo e nominoti dell'imprenditoria una breve dichiarazione nessuna risposta alle domande dei giornalisti mi limiterò all'ordinaria amministrazione mi dimetterò il 12 gennaio dice Joseph Muscat davanti alla sede del governo alla Valletta in seguito un nuovo primo ministro sarà in grado di prendere le decisioni importanti di cui necessita il paese una presa d'atto quella del premier Maltese a cui da giorni migliaia di persone nonché i familiari di Daphne Caruana Galizia chiedono il passo indietro in quanto simbolo del potere corrotto e anche direttamente coinvolto attraverso la moglie in inchieste giudiziarie rese possibili dal lavoro della giornalista investigativa uccisa da un'autobomba a Malta due anni fa Caruana Galizia scoprì infatti che la stessa moglie di Muscat possedeva società offshore a Panama per ricevere finanziamenti dalla figlia del presidente dell'Azerbaijan per quanto riguarda poi gli sviluppi dell'inchiesta della magistratura sull'omicidio della giornalista risultano coinvolti membri del governo imprenditori di spicco uno su tutti Jorgen Fenech il miliardario amico dell'ex braccio destro di Muscat Keith Schimbri Fenech al timone della Twimas Group impero di Casinò alberghi di lusso porti privati aziende energetiche è stato incriminato e deve rispondere di complicità nell'assassinio della reporter per gli inquirenti è lui insieme ad altri il mandante benché si dichiari non colpevole è pronto a scaricare dietro opportuna protezione Schimbri a suo dire vero ideatore di un attentato compiuto con esplosivo fornito sembrerebbe dalla mafia siciliana intanto a Malta scende in piazza la società civile le manifestazioni come quella di ieri sotto il Parlamento disegnato da Renzo Piano si moltiplicano e vedono sempre in prima fila i figli di Daphne Caruana Galizia determinati ad ottenere giustizia per una madre fatta tacere per sempre con una bomba piazzata sulla sua automobile i familiari ma anche migliaia di cittadini comuni che osservano con preoccupazione la crescente spregiudicatezza di un potere disposto a tutto per il business una denuncia che arriva anche dal Consiglio d'Europa il primo ministro a Malta si legge in una relazione è onnipotente nomina giudici magistrati e quasi tutti gli organi di controllo in assenza di pesi e contrappesi quanto basta per imporre nel mezzo di questo scandalo un deciso cambio di passo che assicuri alla giustizia i colpevoli della morte di Daphne Caruana Galizia vi leggo un aggiornamento su questa notizia perché la famiglia di Daphne Caruana Galizia ha presentato un esposto per violazione della Costituzione contro il primo ministro Muscat chiedendo che desista da un'ulteriore intromissione nelle indagini sull'omicidio della giornalista e chiedendo che sottoponga all'esame della Corte il suo coinvolgimento nel caso adesso a Hong Kong perché sono scattate le contromisure di Pechino contro le decisioni prese la settimana scorsa dal Presidente Trump a sostegno del Movimento Pro Democrazia La reazione cinese alla firma del Presidente Trump dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act è arrivata Pechino ha annunciato la sospensione dell'autorizzazione alle visite nei porti della ex colonia britannica alle navi da guerra americane più una serie di sanzioni nei confronti di alcune organizzazioni non governative accusate di avere dato sostegno alle proteste pro democrazia che da sei mesi infiammano il territorio semi-autonomo cinese le misure annunciate oggi sono state adottate in risposta al comportamento irragionevole da parte americana detto il portavoce del Ministero degli Estari di Pechino la legge la legge approvata la scorsa settimana da Donald Trump dopo il voto quasi unanime al congresso impone al Dipartimento di Stato di revisionare anno dopo anno il tasso di democrazia e la protezione dei diritti umani ad Hong Kong pena la perdita dello status economico di nazione più favorita la legge inoltre consente al Presidente ad imporre sanzioni e restrizioni ai viaggi negli Stati Uniti in caso di violazioni gravi l'America è il secondo partner commerciale di Hong Kong verso la quale ogni anno esporta beni servizi per 50 miliardi di dollari Hong Kong peraltro già sta pagando in maniera pesante la crisi politica dopo 15 anni il segretario alle finanze Paul Chan ha annunciato il primo bilancio in rosso una contrazione del PIL di un punto e mezzo percentuale al momento comunque Trump ha sottolineato di non essere intenzionato ad applicare lo Human Rights and Democracy Act in maniera stringente si tratta di un incoraggiamento rivolto alla Cina per risolvere la crisi per via negoziale ha detto il Presidente americano è però anche un'arma in mano alla Casa Bianca nella lunga e non ancora risolta nonostante molti proclami questione della guerra dei dazi tra Washington e Pechino in questi giorni inoltre ci sono stati ad Hong Kong diversi cortei nei quali manifestanti hanno esposto la bandiera americana per ringraziare il Presidente Trump di avere preso una posizione netta in loro favore torniamo in Italia con la cronaca con l'inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi il giovane personal trainer ucciso nell'ottobre scorso a Roma si è saputo oggi che nell'auto che era stata noleggiata da uno dei due accusati del delitto sono stati trovati 31 grammi di cocaina intanto nei prossimi giorni cominceranno gli interrogatori degli ultimi indagati in questa inchiesta mancano ancora dei tasselli nella ricostruzione dell'omicidio di Luca Sacchi ucciso il 23 ottobre scorso nel quartiere Appio a Roma e di oggi la notizia del ritrovamento da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di 31 grammi di cocaina nascosta in bustine di plastica nel passaruota anteriore destro dell'auto una smart presa a noleggio in sostituzione dello stesso modello usato la sera dell'omicidio da Valerio Delgrosso e Paolo Pirino i due giovani sotto accusa per l'assassinio a cosa dovevano servire veramente i 70.000 euro in mazzette da 50 e 20 euro che si trovavano nella disponibilità di Giovanni Princi amico di lunga data di Sacchi e della fidanzata Anastasia e chi è il misterioso finanziatore che avrebbe fornito il denaro per comprare la droga il denaro era destinato a Valerio Delgrosso che però decide all'ultimo momento di prendere i soldi senza dare nulla in cambio per avere un quadro completo gli inquirenti puntano ora su elementi importanti che potrebbero emergere dai tabulati dei cellulari sequestrati agli indagati e si analizzano messaggi scritti e vocali chat e messaggistica privata il sospetto è che Anastasia indagata ad avvenire discorso per tentato acquisto di sostanze stupefacenti e con obbligo di firma abbia utilizzato un'applicazione chiamata Signal che consente di cancellare definitivamente tutto ciò che si vuole eliminare è sorprendente scrive il giudice nell'ordinanza la sua chiusura ad ogni tipo di collaborazione per assicurare alla giustizia gli autori dell'omicidio del fidanzato un silenzio sospetto che si aggiunge ai tanti dubbi sulla posizione di Giovanni Princi con il quale Anastasia aveva frequenti contatti sul cellulare per gli inquirenti Princi che dovrebbe essere interrogato domani è inserito stabilmente in contesti criminali sia Princi che Anastasia secondo gli inquirenti preservano le loro relazioni criminali non offrendo alcun contributo alle indagini domani dovrebbe essere ascoltato anche Marcello De Propis in carcere con l'accusa di concorso in omicidio per aver fornito a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino l'arma usata per uccidere Luca Sacchi questa mattina è stata riaperta l'autostrada a 6 Savona Torino chiusa ieri pomeriggio per i segnali di allarme che erano arrivati dai sensori posti sulla parte di movimento franoso rimasto sulla stessa collina che una settimana fa lo ricorderete aveva distrutto il viadotto Madonna del Monte la tratta Savona Altare si percorre a doppio senso di marcia sul bypass della careggiata sud e adesso a Venezia quel referendum tentato più volte non è andato a buon fine praticamente il referendum non ha raggiunto il quorum e quindi Venezia e Mestre restano unite non sono andato neanche a votare soldi spesi per niente distacco misto a delusione parole che tra i mestrini danno il senso di come il referendum consultivo per separare Venezia da Mestre non sia stato affatto sentito la debacle della quinta volta referendaria in 40 anni è stata la peggiore di sempre con il dato sull'affluenza più basso 21,7% nonostante la prevalenza dei sì al 66,11% contro i no al 33,89% anche nelle isole della laguna dove la voglia di separazione più forte il quorum del 50% più uno non è stato raggiunto tra le proteste dei comitati che minacciano ricorsi al Taro così Mestre e Venezia restano unite a braccetto con quel ponte sul mare che separa le due sorelle ognuna le prese con i problemi di sempre è stata la consapevolezza che i cittadini riconoscono in Venezia un valore e riconoscono il valore nella città unica Venezia con dei problemi specifici molto molto rilevanti molto grandi tosti Mestre è una città che rischia di diventare per la seconda volta nella storia un dormitorio al servizio di Venezia a Mestre i temi caldi sono lo spaccio il degrado intorno alla zona della stazione i troppi negozi costretti a chiudere nel centro storico Mestre doveva essere il dormitorio degli operai di Marghera ha anche ospitato i veneziani sfullati dall'alluvione nel 1966 è rimasta sempre la sorella più grande ma anche quella più debole insieme possono essere funzionali l'una per l'altra dicono in città a Venezia tra i temi caldi quelli del solo affullamento dei turisti quelli che scelgono di dormire in appartamenti e non in alberghi e poi ci sono le questioni della difesa della laguna dal passaggio delle grandi navi dalle maree di acqua alta superiore a 110 cm la serenissima fatica sta ripartendo dopo l'alluvione del 12 novembre 187 cm di acqua granda con la conta dei danni oltre un miliardo la prima stima ancora tutta da completare e poi c'è il Mose l'opera idraulica dello Stato che divide e sulla quale non mancano i dubbi e questa notte ci sarà un nuovo test nella bocca di Porto a Malamocco si proverà ad alzare le paratoie a metà novembre nei giorni dell'emergenza vennero sospesi per le forti vibrazioni nel frattempo è terminato l'intervento del Presidente del Consiglio Conte alla Camera appunto sulla riforma del Fondo Salvalsati alle 15.30 sarà al Senato Conte ha detto che tornerà a parlare in Parlamento il prossimo 11 dicembre e per il momento è tutto ci fermiamo torniamo subito dopo con le notizie sportive Eccoci di nuovo in diretta partiamo dalle notizie sportive dal calcio con la fumata nera in Lega Serie A per l'elezione di nuovo presidente da domani quindi entrerà in carica il commissario ad acta Mario Cicale che avrà il compito di individuare il nuovo presidente intanto ieri l'Inter sul campo ha preso il comando della classifica Altro che tappa di trasferimento secondo la metafora del ciclismo di fronte all'esperità a spalle e sassuolo è stata l'Inter a innestare il rapporto giusto sul cambio per operare il sorpasso la Juve invece si blocca sui pedali e consegna quel testimone del comando che aveva preso la settima giornata vincendo lo scontro diretto Il potere logora chi non ce l'ha diceva Andreotti e magari a Conte scongiuri a parte può anche piacere se va a leggersi le statistiche nerazzurre con il primo posto della quattordicesima giornata l'Inter ha vinto lo scudetto quattro volte indiscutibilmente flertare con i numeri significa un ritorno concreto che supera anche i record come quello dei 12 successi nelle prime 14 partite che non era mai riuscito a nessun allenatore né l'azzurro nel mondo interista hanno coniato il Lula Park per sintetizzare le meraviglie di Lukaku e Lautaro che anche ieri non ha perso l'abitudine di una doppietta dietro di loro un gruppo della precisa identità e della brengazione feroce in attesa del recupero degli infortunati importanti emergenza soprattutto a centro campo dopo il cambio al vertice siamo già proiettati al prossimo riscontro e il calendario segna un quoziente di difficoltà alto per entrambe venerdì Inter Roma e sabato Lazio Juventus con i bianconeri che devono dare una risposta a quegli interrogativi che da un po' alimentavano le critiche Juve imballata spesso salvata dalle prudezze dei singoli Cristiano Ronaldo poco determinante e Di Bala sacrificato un gollonso come quello di ieri si potrebbe collegare al commento di Sarri in campionato meno motivazioni della Champions dicevamo delle romane che rappresentano un test scudetto importante perché occupano il terzo e il quarto posto con i giallorossi stasera ci potrebbe essere anche il Cagliari in caso di successo sulla Sampdoria la Lazio in uno stato di grazia ribadito anche contro l'Udinese sei vittorie consecutive immobile che non si ferma più nove gare di fila a segno meno due dal primato di Battistuta e Quagliarella tutto agevolato dai ricami di Luis Alberto la Roma passa a Verona soffrendo molto i trequartisti Verre e Zaccagni uscendo però da squadra vera che si coagula intorno a Lorenzo Pellegrini a menotto dal piazzamento Champions in Napoli impotente in campionato dove non conquista i tre punti da sei gare la caduta con il Bologna porta Ancelotti a prendersi molte responsabilità ma anche a chiamare in causa i calciatori che lo stanno deludendo in campo il tecnico poco fa ha deciso il ritiro da mercoledì in vista dell'Udinese Boccata all'ossigeno per il Milan prima vittoria esterna di Pioli nella sua città Parma firmata da Teo Hernandez uno dei migliori della stagione e con il Gran Premio di Abu Dhabi si è concluso il Mondiale di Formula 1 ennesima vittoria del riconfermato campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton per il quale potrebbe profilarsi un futuro nella Ferrari Le cose non accadono mai per caso nemmeno in un mondo in cui l'imprevisto è sempre dietro la curva così il podio che conclude la stagione 2019 è tutto fuorché casuale rappresentazione perfetta di ciò che la Formula 1 è oggi di quello che sarà e soprattutto di quello che potrebbe essere l'oggi è assoluto totale torreggiante Lewis Hamilton ha onorato con la gara perfetta vittoria giro veloce sempre al comando pole position il suo sesto titolo mondiale con il record di 413 punti 11 successi stagionali unico pilota sempre a punti ma accanto al 34enne Hamilton ci sono in perfetto ordine di classifica e ridata i due piloti che rappresentano ciò che sarà il futuro della Formula 1 Max Verstappen e Charles Leclerc due che hanno fatto a ruotate fin da piccoli che lo hanno fatto anche ieri e che sono destinati a continuare a farlo due fenomeni assoluti nati a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro in un fortunato 1997 il futuro certo di una Formula 1 che quest'anno proprio grazie ai loro duelli è tornato ad essere in instabile equilibrio tra capolavoro e azzardo ma su quel podio c'è soprattutto tutto quello che potrebbe succedere dopo il 2020 anno di passaggio verso una nuova era tecnica ed umana il 2021 vivrà una rivoluzione che intreccerà i destini di vetture scuderie e piloti la Mercedes che dopo 12 titoli in sei anni vuole più poteri decisionali ed economici minaccia l'addio e questo potrebbe spalancare le porte al trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari una prospettiva confermata non solo dagli incontri già avvenuti con John Elkan ma anche dalle stesse parole dell'attuale team principal Mercedes Toto Wolff anche egli peraltro non sicuro di volerà rimanere in Formula 1 c'è il 25% di possibilità che Hamilton non resti in Mercedes perché però il passaggio di Hamilton in Ferrari possa realizzarsi facendo attenzione a non tarpare le ali di Leclerc giare delle pole nell'anno del debutto sarà decisiva la capacità della scuderia di Maranello di tornare ad essere davvero competitiva dovrà lasciarsi alle spalle errori di progettazione una macchina velocissima sul dritto ma penalizzata nel misto errori di strategia compresi gli ultimi di Abu Dhabi sia in prova che in gara per tacere del garbulio sulla quantità di benzina che ha messo a rischio ieri anche il terzo posto di Leclerc e soprattutto errori di gestione dei piloti il doppio Arachiri brasiliano resterà a lungo negli incubi in rosso perché Leclerc ed Hamilton possano ritrovarsi insieme nel 2021 a caccia di un titolo nulla dovrà essere lasciato al caso per ora è tutto la prossima edizione alle 20 grazie per averci seguito adesso vi lascio a Tagadà buona giornata a tutti voi